Un saluto a tutti da Pieruggi Pardo e Stefano Naba E grazie per aver scelto anche oggi di restare in nostra compagnia per questo match Un saluto e un grazie anche da parte mia Pier E speriamo di divertirci, di far divertire la gente a casa Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi Hanno optato per il 4-3-3 classico con due attaccanti rapidi e una punta centrale di peso Modulo che dovrebbe esaltare la velocità degli esterni Prevedo duelli infuocati sulle fasce Questo è l'undici della squadra ospite Scelano in campo col 4-3-3 con due attaccanti schierati in posizione più defilata rispetto al centro avanti Intervedente importante, pesante questo Potrebbe risultare decisivo alla fine nell'economia del match C'è spazio per andare e c'è la conclusione Prodigioso il portiere sul tiro ravvicinato Oh che riflessi Pier, ha reagito in una frazione di secondo Occhio al corner, colpa di testa che sembrava già dentro Intervento di puro istinto del portiere Parata dal coefficiente di difficoltà altissimo, mamma mia Buono un anticipo del difensore E sarà calcio d'angolo Calcio d'angolo battuto Palla in mezzo Deviazione di testa innocua che non crea problemi al portiere Intervento comodo il suo Alla recuperata, azione interrotta Palla in verticale sull'attaccante Grande giocata Ha sbagliato a tu per tu con il portiere Ha optato per piazzarla Non la soluzione migliore direi a giudicare poi dal risultato Yatabaré Occhio al traversone Cerca il traversone C'è il fischio del direttore di gara È offside Puntuale qui il difensore nel recupero Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto Ha recuperato il pallone Cambia nel fronte l'attacco con questo lancio Che taglia tutto il campo Non è facile trovare spazi Ci provano con la circolazione di palla Prova addirittura la conclusione Teeters Buono il pallone recuperato Può contare sull'aiuto dei compagni Azione interrotta Può sfruttare C'è spazio per lui Occhio al traversone 1-0 dunque Raccolgono i frutti Di un'ottima prestazione fin qui Stavano facendo un po' quello che volevano Troppo passivo L'atteggiamento della squadra avversaria Vantaggio direi Più che meritato Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0 Grazie a tutti Grazie a tutti